Stamane, ennesimo consiglio comunale di Vercelli, con il solito prevedibile esito. La riunione è stata dichiarata deserta, in quanto sia la maggioranza che l'opposizione non hanno presenziato il numero sufficiente a garantire il numero legale. Uniche presenze in aula, oltre alla consigliera Naso del Partito Democratico in qualità di presidente, quelle di Malinverni per Forza Italia e di Randazzo e Pasquino per Vercelli Amica. L'unica novità sono state le dimissioni presentate ieri dalla consigliera Teresa Marcon, che rappresentano un ulteriore addio alla maggioranza della giunta guidata da Maura Forte. Quindi, sia la maggioranza che l'opposizione, preferiscono attendere il pronunciamento definitivo del Tar Piemonte sulle mancate surroghe e a cascata, sull'aprire i consigli con la sola presenza di 11 consiglieri. Buongiorno, come avete sentito, la situazione di stallo al consiglio comunale di Vercelli prosegue ancora in attesa del Tar. Abbiamo chiesto al segretario cittadino di Siamo Vercelli e Alberto Perfumo i possibili scenari futuri. Sì, in ogni caso il consiglio di oggi non sarebbe stato decisivo rispetto alla sorte di questa amministrazione, perché ci sono altri 20 giorni a disposizione del sindaco per arrivare all'approvazione del bilancio. Adesso molto è legato a quello che ci dirà il Tar, che si è impegnato entro dieci giorni a esprimersi, sia sulle surroghe, quindi sul ricorso fatto da chi non è stato surrogato, sia sull'opposizione da parte nostra con l'apertura a 11 anziché a 14. Molto dipenderà, dicevo, da quello che il Tar ci consegnerà come suo parere. Oggi la scelta della minoranza di non partecipare è stata dettata proprio dall'assoluto rispetto nei confronti di questa situazione. Se il Tar dirà che noi abbiamo ragione, che quindi non si poteva aprire ad 11, il discorso è chiuso, perché l'amministrazione non sarà più in grado di far partire nessun consiglio da qua ai prossimi 20 giorni e quindi sarà conclusa l'avventura di Maura Forte. Qualora invece il Tar riconosca che c'è un obbligo di surroghe e al contempo in 11 era regolare l'apertura, allora ci dovremo adattare alla decisione del Tar. Il sindaco tornerà ad avere la sua maggioranza, a meno dei pezzi che eventualmente tornerà a perdere nei prossimi giorni e potrà continuare a governare con la città. Non credo che neanche in questo caso ci stupirà con dei risultati importanti nell'ultimo anno che le rimane. Parte la macchina organizzativa del Centro Estivo Comunale 2018 di Vercelli e diventa indispensabile ottenere le prescrizioni al fine di ottimizzare il servizio. A questo proposito i moduli sono in distribuzione, l'ufficio a relazioni con il pubblico di piazza del Municipio 4 con orario dal lunedì al sabato compreso dalle 8.30 alle 12.30 e scaricabili dal sito internet istituzionale della città www.comune.vercelli.it Il Centro Estivo si svilupperà su 4 settimane dal 2 al 27 luglio ed è possibile ottenere l'iscrizione a una o più settimane. Funzionerà dal lunedì al venerdì compreso dalle 7.30 alle 17.30. Le sedi saranno indicativamente la scuola dell'infanzia Alciati e la scuola primaria Bertinetti. È in moto la macchina organizzativa dell'evento Un Gol per il Futuro, la partita della Nazionale Italiana Cantanti che si terrà a Casale Monferrato il prossimo 29 aprile. Ce ne parla il sindaco della città, Titti Palazzetti. Perché è stata voluta questa partita con la Nazionale Italiana Cantanti? C'è stata proposta la partita proprio della Nazionale Cantanti che sono avuti a trovarci e volevamo anche con questo partecipare alle celebrazioni con la commemorazione della giornata per le vittime dell'Amianto, giornata mondiale che si tiene il 28 di aprile. Il 29 ci sarà la partita proprio nell'ambito di queste manifestazioni per un gesto di solidarietà molto forte e di riconoscimento anche verso la città di Casale Monferrato. Non solo verso il dolore delle vittime per il Messia Telioma ma anche per il coraggio e la determinazione con cui la città ha fatto la sua lotta contro l'Amianto al punto di essere quasi completamente demiantizzata. Quindi un grandissimo risultato che è stato frutto proprio della partecipazione e dell'impegno di tutti i cittadini oltre che dell'amministrazione. E quindi è una partita che è anche per noi piena di gioia perché segna il momento della rinascita, del riscatto ed è un grande gesto di solidarietà e di generosità da parte dei cantanti della Nazionale. Non ci sarà solo prosa nel cartellone della stagione 2018 messo in cantiere a Costanzana dalla locale associazione teatrale La Quarta Parete sotto il titolo di Festarte. Dopo l'apertura di sabato 21 nel teatro parrocchiale di Via Primo Maggio con il laboratorio Teatro Atlantia di Bibiella che proporrà la commedia brillante L'Invetriata di Fernando Crini. Ci sarà infatti in occasione dell'International Jet Day un concerto del 78 Giri Hot Ensemble diretto da Claudio Bianzino in programma domenica 29 aprile. Venerdì 4 maggio il progetto Outlier e Art in Scacco proporranno Ritorno da me meccanismo per inciampare nei ricordi di e con Livio Ghizio. Domenica 13 maggio invece l'associazione culturale Teat di Sant'Ia sarà in scena con lo spettacolo di prosa contemporanea Sofia di Alessia Romano. Sabato 26 maggio la Quarta Parete proporrà Umanità sortite, nuove corpi, nuove immagini, nuove identità. Gli spettacoli inizieranno sempre alle 21 con l'ingresso ad offerta libera. E adesso un attimo di pausa, ci rivediamo dopo per la Sport. Domani la Pro Vercelli per il campionato di calcio di Serie B scenderà in campo alle 15 a Chiavari contro i rivali storici di queste ultime stagioni, la Virtus Entella. Vediamo l'intervista. Si va a Chiavari, è uno spareggio? Sì, è un'altra battaglia. Da adesso in poi lo sapevamo che le ultime 13-14 partite sarebbero state sconti diretti. Continuo ad elogiare il mio gruppo, sappiamo che c'è qualcuno che non ha piacere che noi veniamo fuori. Mi dispiace molto per una mia intervista che è venuta fuori dove chi non mi conosce e che è in cattiva fede ha attraversato le mie parole perché io volevo solamente dire che la mia Pro Vercelli, per mentalità e non perché sia bravo io, è abituata a giocarsi le partite e non a subirle. Quando sono stato esonerato alla squadra era stato chiesto un modo diverso di giocare che non riconosceva perché questa è una squadra che ha qualità e che lo dimostra domenica dopo domenica. volevo solamente dire quello ma ripeto c'è qualcuno che rima contro ma noi siamo forti e nessuno ci metterebbe bastoni tra le ruote. Sempre domani ma con inizio alle 20.45 a Cremona l'Occhi Amatori Vercelli scenderà in pista per gara 1 di finale dei play-off del campionato di Occhi su pista Serie A2. Sarà sicuramente una partita molto difficile perché è anche una pista difficile, ci sono parecchi ex in campo quindi avranno sicuramente voglia di rifarsi delle due partite che hanno fatto in campionato che abbiamo vinto. Sarà una partita molto dura perché comunque in palio c'è 1-1, entrambi vogliamo chiudere in bellezza, sarà una partita anche molto fisica, penso, e molto tattica perché sicuramente saranno preparando molto bene la partita, la difesa. Noi dal canto nostro ci stiamo preparando bene, stiamo cercando di limitare i loro tiratori, stiamo cercando di preparare bene le nostre giocate davanti e chiudere bene in difesa. Bene per questa sera, per questa settimana, per l'informazione è tutto, appuntamento come di consueto lunedì alle 19. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti